carola mi fa veramente piacere incontrarti noi siamo state insieme per diversi mesi ma in realtà non ci siamo mai parlate no no allora io in realtà scrivevo sul quale avevamo un quaderno delle esigenze o comunque richieste lezioni marlù e io scrivevo sempre incontrare l'orella fare music collezioni di musical colorella se devo chiamarti giulietta in questo periodo ti chiamo carola per ora carola perché ancora sto studiando poi quando l'avrò fatto quando sarò nel ruolo allora sarò giulietta senti dimmi di te come stai come ti senti allora in questo momento è tutto molto nuovo per me perché ho preso casa da poco ho iniziato il lavoro da poco sono tanto felice tanto impegnata e ancora devo un po abituarmi a comunque sì il lavoro però anche un po di vita insomma la parte socievole un po di vita privata ancora devo gestirmi bene perché se è troppo lavoro 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 poi però per il momento sto bene e mi fa molto piacere mi sto ambientata in fase di adattamento facciamo un po passo indietro perché se sei uscita dal programma di amici alla quinta puntata se devo dire con sorpresa di tutti e anche con una forte protesta dei social ecco come hai vissuto quel momento da una parte l'interruzione di un'esperienza che era così forte così totalizzante no ma dall'altra anche la scoperta di avere intorno a te così tanto affetto da parte delle persone guarda in realtà io non non me ne rendevo conto perché uno non avevamo i telefoni non avevamo internet cioè e poi nel serale comunque era molto tipo una una bolla no molto centrati sul lavoro non c'era proprio tempo per accorgersi di cosa pensava la gente o comunque il feedback del pubblico e questo quando l'ho visto ovviamente mi ha fatto piacere veramente tanto so che ho tantissimi fan che qualsiasi cosa subito sei presente sui social ogni tanto ti vedo in tendenza anche su twitter ma io non so perché io non sono una persona che usa molto i social cioè non perché proprio perché non lo so fare cioè non ne so proprio però mi sa che dovrei cominciare e infatti adesso c'è un mio amico che mi sta aiutando insomma mi dice come magari mettere le storie in evidenza le cose perché io c'è diciamolo non mi piace tanto condividerla mia vita cioè nel senso le cose di lavoro penso siano importanti però non sono una tipa che magari ti dice sto mangiando questo pure guardate dove sono come è stato tornare alla vita di tutti i giorni anche se poi in realtà non è la vita che hai lasciato no allora oggi adesso cioè ora come ora ti dico che ho esattamente quello per cui ho lavorato anni cioè io ho la mia indipendenza ho la mia casa ho il mio lavoro cioè io ho lavorato anni e poi il ruolo principale cioè io veramente ho è il mio sogno quindi ti dico oggi dico veramente la cosa più meravigliosa però quando sono uscita per un mese no non per un mese per tre settimane ero un po' frastornata sì ma sono stata anche un po' cioè non male ovviamente non male tipo non ho avuto malattia ok però era un po' stordita perché comunque intanto non sono come esci che tutti ti salutano ti chiedono l'autografo cioè io a me fa tanto piacere però mi sono un po' rimessa in questione perché molte persone ti dicono se il mio idolo mi è cambiato la vita che a me fa piacere però quello che la gente vede di te molte volte non è quello che tu pensi di te e quindi ti rimette un po' in questione comunque dire c'è gente a cui hai comunque salvato in qualche modo che ti vede come un personaggio allora pensi magari ho qualcosa che io non so di avere che gli altri apprezzano se tu dovessi guardare all'esperienza di amici che cosa cosa è incambiato in te perché immagino che tu non sia più la carola di quando sei entrata nella scuola ma in realtà penso di avere preso consapevolezza sul lavoro tantissimo cioè proprio su come approcciare il lavoro ma non è una cosa fisica o tecnica è proprio una cosa mentale no perché lì è tutto comunque all'ultimo minuto magari non hai tante prove quindi sei buttato un po' lì in alto mare è una scuola e devi devi trovare un modo per cavartela sempre e quindi un nuovo metodo io non avevo mai fatto un pezzo provato tre giorni cioè io prima di entrare là magari ti avrei detto minimo due settimane un mese perché devo rivederlo devo sapere perché adesso è più una cosa cioè a livello di danza più una cosa sull'energia cioè più la qualità del movimento tra l'altro mi sembra che tu sia anche più libera finalmente no cioè questa mania che tu hai sempre avuto che è una tua caratteristica che probabilmente viene anche dalla scuola che hai fatto tanti anni no della perfezione oggi ti sei lasciata andare finalmente o no un po un pochino comunque sul lavoro a parte gli scherzi sul lavoro per me è importantissimo essere precise ovviamente la perfezione è in alto cioè non si può arrivare alla perfezione però sì ho ancora il mio quaderno ancora scrivo un po' di meno brava però mi rendo conto veramente che un po' mi ha aiutato questa cosa sì parecchio nella danza e poi anche un po' nella vita però una cosa che ci stavo pensando in macchina prima cioè letteralmente prima di venire qua no cioè adesso è come se io ho sempre avuto la mia vita sotto controllo cioè io sapevo cosa facevo perché lo facevo con chi stare con chi uscire perché lì essendo una cosa comunque una convivenza forzata perché non scegli le persone oppure avendo un piano stabilito da loro dei pezzi che tu comunque non hai scelta allora questo mi ha un po' destabilizzato perché avendo cioè io sono sempre stata io che decidevo della mia vita non la vita che decideva per me quindi questo mi ha un po' appunto fatto aprire gli occhi no? su questa cosa sai che a volte comunque non sempre tu devi decidere ma un po' semplicemente devi anche prendere le cose così come arrivano però mi preferisco comunque controllare la mania del controllo non l'hai persa del tutto diciamo vabbè ma poi controllo per le cose insomma poi c'ho pure io il disordine le cose ovviamente però mi piace avere la mia routine i miei appuntamenti le mie cose capito se magari succede qualcosa è difficile non ti non ti trovi proprio particolarmente a tuo agio senti un periodo lungo no quello di amici sono tanti mesi sì è una scuola di vita professionale incredibile immagino che ci siano poi delle persone che sono particolarmente importanti in un percorso ecco se tu dovessi elencarmi delle persone che veramente sono state fondamentali in questi mesi maestro Montesso perché lui lo vedeva ogni giorno la maestra loro due senti il consiglio più importante che ti ha dato il maestro Montesso e un consiglio importante che ti ha dato Alessandra Celentano insomma ti ha veramente protetto e ti ha proprio anche molto molto spronato no è stata molto vicina a te in questo percorso poi ci sono tante volte mi ha sgridato cioè perché comunque sì mi voleva bene comunque c'è penso ci sia una stima reciproca comunque però c'è quando c'era da sgridarmi ma no ma lei lo ha appunto con chiunque eh sì 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 in sala pure mi ha sgridato tante volte ma va bene così però allora il maestro ci stava questo lo devo raccontare ci stava un giorno che non avevo scritto niente sul tuo quaderno degli errori un pezzo un pezzo sola quello sola ok ottobre un giorno ho detto vabbè dai era appena iniziato questo discorso del quaderno della consapevolezza del controllo ho detto maestro non scrivo niente questa volta vedo però sono arrivata alle prove spazio e non sapevo cioè mi ero fermata è iniziata la musica faccio l'introduzione mi fermo e sembravo proprio cioè gli ho detto maestro non ho scritto non ho ripassato non ho scritto le cose lui lui si era lì sul momento mi ricorda ho detto cioè si era un po' diciamo adirato no poi gli ho detto ero rientrata in sala mi ero messa a piangere ho detto maestro non ho scritto le correzioni perché ho provato questa volta non scrivere niente e mi sono dimenticata e ho detto non ce la farò mai perché se appena appena non scrivo poi vado lì e non non so la coreografia allora significa che sono proprio impedita gli ho detto mi ha detto col tempo mi ha detto soltanto dai tempo e soprattutto cioè credici se alessandra lei da un punto di vista proprio di danza mi ha insegnato a lavorare più a sensazioni piuttosto che di testa capito più a feeling magari la correzione è sulla spalla anziché pensare abbassa la spalla pensa senti questo cioè in questo momento a vivere la coreografia questo sì da un punto di vista di danza e poi di fidarmi di me cioè che comunque di non cioè di andare un po' così ad istinto di non sottovalutarti anche sì anche poi vabbè adesso lavorerò ancora con lei lei verrà comunque a vedermi quindi spero che questo no anzi a me piace quando viene perché ti mette quell'ansia giusta sì ma è un'ansia benefica non è un'ansia è proprio un'ansia costruttiva sì perché una che comunque ha investito tanto tempo tanta dedizione tante correzioni tante sgridate tanti comunque ci tieni a farle vedere certo i passi avanti senti mi racconti se c'è stato il momento più difficile all'interno di questa esperienza il momento era genna verso gennaio quando mi ero fatta male e mi fecero la cura perché io facevo delle punture insomma il momento più difficile è stato quel periodo semplicemente perché stavo sul divano io non potevo far nulla ed ero con stavo con mattia perché lui aveva già il problema al piede stavamo io e lui tutto il giorno sul divano non potevamo far niente e vedevamo tutti che andavano tornavano dalle lezioni e noi così senza sapere quando potevamo riprendere e questo mi ha ricordato un po' quando io ho avuto un incidente importante al ginocchio e questo mi ha ricordato di quel periodo e quindi sono andata un po' in un loop e poi là ad amici non avendo distrazioni non avendo internet ovviamente pensi cioè tanti momenti tu trascori con te stesso quindi pensi no? ricadi cioè ti rituffi un po' nei traumi nei brutti ricordi comunque ti tornano e quindi è stato un po' come fare conti con certe cose del passato come ad esempio il ginocchio perché vuoi o non vuoi trauma sì un po' superato però appena mi succede qualcosa io sono stata malissimo quando è successo? è successo nel settembre fine 2018 mi è durato un anno poi un anno fermo poi la riniziare a camminare riniziare a ballare ho riniziato con le bambine di sei anni a fare le lezioni per proprio rimparare le basi la propedeutica certo la propedeutica e quindi diciamo in totale un annetto e mezzo per poi riprendere il livello un annetto e mezzo è passato quindi insomma sicuramente c'era anche un po' la paura di ritrovarsi di fronte alla stessa situazione senti mi dici con Maria che rapporto hai avuto? allora Maria quindi una volta che parlo di Maria devo dire che proprio c'è un po' un giudizio comune no? di questa di questa donna sempre presente è stata un po' una mamma sì veramente per tutti voi Maria ogni tanto si collegava con la voce che non sapevi da dove veniva no allora lei ha questa capacità di capire tutti e di dire la cosa giusta al momento giusto non so come faccia lei con me penso che mi abbia proprio inquadrata da subito poi molte volte si è collegata per insomma risolvere un po' di problemi molte volte insomma chiacchierava con me e anche con gli altri poi ad un certo punto penso che abbia un po' perso la speranza in che senso? ma perché mentre prima insomma ha cercato di aiutarmi poi magari ha visto ok effettivamente non ci possiamo fare niente è troppo così è troppo no però c'è ognuno ha le sue fragilità no? sì 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 però devo dire che c'è sempre stata pure da un punto di vista di danza una volta eravamo ad una prova io ero molto agitata perché era un pezzo che avevo imparato il giorno prima e guardavo per terra e lei mi ha detto adesso ti faccio vedere un video di te che guardi per terra così capisci capito anche mi ha aiutato anche sì sì con un occhio anche proprio attento allo spettacolo non soltanto all'aspetto più umano sì 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 senti all'interno della casa degli altri ragazzi con cui hai legato di più? cioè quali sono state le persone con le quali veramente hai condiviso una buona parte del percorso? le mie compagne a distanza perché loro insomma erano le persone che vedevo di più quindi Sissi e Serena che tra l'altro sento poi come ragazzi ti dico vabbè ovviamente Luigi certo poi ti dico Guido ti dico ma in realtà Francesco adesso ci devo pensare però insomma con alcuni di loro sei ancora in contatto? sì pure Aisha, Rea, Nicole diciamo un po' proprio la vecchia guardia quasi tutti quelli che sono arrivati sì pure Flazia ad esempio lei è una che sento cioè molte volte mi vedo con lei e la sento e le voglio davvero tanto bene a lei poi quelli che ci furono a settembre e beh proprio i primi insomma la prima classe la prima classe forse perché comunque appena entrati era nuovo quindi dovevi però sì le amicizie più belle sono state quelle dell'inizio senti facciamo un bel passo indietro mi racconti che bambina sei stata? che ricordi hai di te bambina? la mia infanzia solo ricordi di Parigi e poi ma in realtà no qualche ricordo di a danza a Cagliari ecco però raccontami no? tu praticamente hai fatto questo provino per arrivare alla scuola dell'Opera di Parigi che eri piccolissima sì avevi nove anni sì, era il giorno del mio compleanno ma la passione proprio per la danza quando era nata? ufficialmente è nata a quattro anni poi di fatto ballavo a casa sulla musica già dai mia mamma mi ha detto dai due anni e mezzo a tre incredibile sì e poi sei arrivata a fare questo provino perché ti ha portato tua mamma e i tuoi genitori e la tua insegnante lei l'aveva consigliato a mia mamma e mia mamma cioè mia mamma e mio papà però mio papà a differenza di mia mamma è più più semplice nel senso magari lui mi avrebbe voluto di più a casa capito è più una persona cioè lui molte volte mi dice ma perché potevi semplicemente stare devi andare così lontana come una persona normale capito andare a scuola come le tue coetane invece mia mamma è sempre lei lei un po' mia mamma è un po' generale lei mi ha sempre spinto a fare cioè questo a fare della danza il mio lavoro insomma però insomma ecco a nove anni è un cambiamento radicale come l'hai vissuto questo questo spostamento perché tu praticamente ti sei ti sei trasferita a Parigi all'inizio cioè ho detto veramente non ho realizzato ho detto per me era tipo un sogno qualcosa di grande di molto grande sì e quindi non ho pensato nient'altro ci ho detto solo che bello andiamo e poi e poi che bello fino a un certo punto no beh bellissimo e per carità cioè però a nove anni non sai cosa succede le difficoltà capito dici ok non è che a nove anni dici cosa sono disposta a fare semplicemente lo fai però poi quando nell'adolescenza dici ma io sono ancora disposta a fare questo sì o no molte volte ho detto no sì cosa ti mancava di più in realtà in realtà durante ma sei disposta a vivere come tutti gli altri no cioè a quel livello devi oppure che ne so mi ricordo questa cosa della domenica sera perché noi avevamo l'internato che era un tipo un collegio e il fine settimana andavamo da questa famiglia che famiglia francese perché io ho pure una seconda famiglia non so se vabbè e di domenica bisognava tornare bisognava tornare al convito cioè al cosa ho detto alla scuola all'internato certo e mi veniva questa angoscia ho detto dicevo ma io voglio ancora stare qua cioè perché devo paradossalmente non era tanto la mia famiglia che mi mancava cioè la mia famiglia italiana era proprio il concetto di stare in famiglia perché quando io stavo nella mia famiglia francese comunque pure lasciare loro era un dolore sì comunque loro sono stati alla fine la mia vera famiglia durante la mia crescita cioè purtroppo o anche per fortuna quindi quando io dovevo tornare cioè era loro che chiamavo se avevo un problema non erano i miei genitori è chiaro anche perché erano quelli più presenti e sei rimasta fino a quanto fino a che età? fino ai 18 anni poi il Canada come arriva? il Canada arriva il Canada arriva per puro caso io ho avuto un giorno in cui ho detto vado cioè ho detto mi trasferisco là in un giorno perché nell'ultimo anno dunque dopo il mio infortunio io ho riniziato a Parigi avevo l'ultimo anno da fare preparando un concorso un giorno ho riavertito dolore però più forte sempre allo stesso ginocchio? sì del solito ho detto stai a vedere che adesso sta succedendo qualcosa vado a farmi un esame il dottore mi dice la cicatrice potrebbe riaprirsi perché non è consolidata ci vorrebbero altri tre mesi io ho sentito questa frase ho detto adesso prendo tutto e me ne vado in un giorno ho chiamato mamma ho detto lei era venuta con gli scatoloni nove anni portati via in un giorno ho lasciato chiunque proprio sì sì è stata una scelta radicale una scelta radicale che se fossi rimasta là sarebbe stato più doloroso nonostante io comunque lì avevo una relazione stabile avevo la mia famiglia avevo i miei compagni io ho lasciato tutto per il ginocchio cioè per perché sapevo che non sarei stata bene capito anche se avevo tutto il bene comunque io in fondo nella mia danza non era quello prossimo quindi arriva il canada fra l'altro io so che lì ti avrebbero anche ingaggiato se non ci fosse stato poi tutto il grande problema insomma a livello mondiale del covid noi abbiamo fatto due prove dopo di che è chiuso e quello è stato un'altra perché comunque un'altra volta cioè io dico sempre tra l'altro ci ho anche pensato perché se tu fai una cosa magari sei quasi arrivato all'obiettivo e succede qualcosa tipo la prima volta è stato il ginocchio la seconda volta è stato il covid io ad un certo punto ho detto ma sarà che forse non è la mia strada se dopo una dopo la seconda la terza cioè non so magari devo smettere devo fare altro ho anche smesso un mese ho smesso ho provato a fare altro sono durata cosa hai fatto? non lo posso dire no che cosa mi avrei mai fatto? no no vabbè cioè non lo posso dire perché mi fa sorridere se ci ripenso perché io piangevo al lavoro ho provato a fare un lavoro normalissimo lavorare perché poi cosa faccio se non faccio la danza? io purtroppo non ho altre competenze perché io ho il diploma e poi dopo di che non ho più ho fatto università né niente per dedicarmi alla danza quindi ho provato a fare allora ho fatto la babysitter e poi ho provato a lavorare in un negozio di tipo brico come commessa? ok sono durata tre giorni due giorni e mi sono autonica sei fuggita sì io stavo là a perché ho detto svolta cambia fai qualcosa mi ricordo io che ero nei reparti che proprio pensavo ma guarda un po' che adesso anziché stare qua potrei mettermi a lavorare a fare le cose sono stata male proprio un giorno però probabilmente è stata anche una scelta giusta no? perché ti ha fatto poi ritrovare la strada sì ma a me vengono questi questi raptus quando io ho dei momenti così so esattamente cioè se io non non ascolto cosa io sento se io ignoro i miei sentimenti o le mie voglie io ci sto male cioè non ce la faccio a a mettere un muro a ciò che sento perché sto proprio cioè se io in quel momento sentivo che non dovevo ballare non avrebbe avuto senso ballare non sarei stata bene però poi fortunatamente sicuramente questa però insomma è una bella dote cioè riuscire a capire quello che si vuole e poi seguire sempre un po' la sua forza no? la propria forza sì è una cosa maturata con vari traumi però voglio dire allora però diciamo insomma che le difficoltà poi servono soprattutto perché siano superate no? quindi tu ce l'hai fatta ne hai superate anche parecchie e adesso mi pare insomma siamo in un momento bello perché finalmente arriva questa io questa Giulietta ecco intanto raccontami come stanno andando le prove le prove stanno andando bene stiamo lavorando tanto e per il momento sto sono ancora in fase di apprendimento quindi sequenza correzioni rapporto anche col partner ancora sull'interpretazione diciamo non sto ancora lavorando cioè per il momento sono ancora all'inizio poi tutta la parte del lavoro del ruolo dell'interpretazione anche di entrare proprio vabbè certo quello verrà quello viene quando dopo un po' di prove insomma ho iniziato la settimana scorsa però io so che tu insieme alle prove di Giulietta in realtà stai facendo anche altre cose perché insomma amici poi ti ha portato anche ad altri eventi a cui partecipi io insomma seguo ogni tanto per cui vedo sì allora ho fatto qualche evento team così poi adesso ci saranno altri spettacoli sempre con il balletto di Roma però anche dei gala insomma degli eventi danzanti ecco cioè di danza per ora sì mi sto concentrando sulla danza perché ora è il momento nel senso ora è l'inizio della mia carriera se non lo faccio ora se non lo faccio ora poi si vedrà insomma una volta che avrò preso il ritmo e quel che succederà succederà insomma e l'amore è un momento in cui c'è spazio solo per la danza oppure una porticina aperta l'amore la tieni sempre? ma per l'amore c'è sempre lo spazio ovviamente però deve essere un amore che si adatta al mio spazio ok perché essendo molto impegnata comunque deve essere una cosa impegnativa non può essere una cosa così comunque soprattutto deve essere una cosa genuina che ti sprona e che ti aiuta ad andare avanti è una cosa che comunque ti prende molta energia ti fa fare tante domande o cose quindi l'amore che vorrei è un amore così è un amore genuino che mi porta a felicità e che si adatta ai miei impegni però nel senso cioè non è che lo sto per forza cercando se deve arrivare arriva anche perché non ho il tempo in questo momento proprio non ce l'hai ma neanche le energie in questo momento le energie sono per il lavoro poi se arriva arriva ma questo io ho un'idea molto anche per l'amore sono molto schematica quali caratteristiche deve avere un uomo per per farti innamorare sai ne diciamo perché così non si sa mai eh vabbè che me ne ritrovo sotto a casa come Giulia non si sa mai non si sa mai sai da quel balcone sì ma l'umiltà cioè la la semplicità la semplicità sì dipende abbiamo detto qualcosa comunque è una persona un po' introversa ma anche un po' estroversa ecco un po' di tutto diciamo è arrivato il momento di giocare con le carte cioè non ti faccio fare una partita a briscola eh no sono delle carte speciali che ci aiutano a svelare qualcosa in più di te perché sono domande così molto molto veloci prendine una e pesca leggi da bambina cantavo sempre cioè il primo pezzo che tu ricordi di quando eri bambina che cantavi a squarciagola scusa scusa fa troppo ridere questa cosa però le canzoni di chiesa perché io cioè andavo al coro io adoro cantare andavo al coro e quindi cantavo alleluia 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 pure con la coreografia vabbè queste da bambina ogni lunedì avevo il coro le lezioni d'indonazione cioè vabbè che belle anche a me piacciono molto e quindi questo prossima carta ultima canzone ascoltata su Spotify Spotify non mi ricordo devo andare a vedere ma vabbè però a me piace tantissimo Lil Nas X ascolto tantissimo mi pare la mia preferita sia Dead Right Now oh perfetto sì meglio lasciare o farsi lasciare oh questa è una domanda meglio farsi lasciare preferisci sì perché perché lasciare ma mi è capitato già di farmi lasciare e anche di lasciare all'inizio lasciare all'inizio era un po' che non mi importava poi col tempo invece ho sentito un po' di sensi di colpa e per me i sensi di colpa sono più dolorosi del dolore veramente quindi preferisci soffrire nel momento in cui qualcuno ti lascia piuttosto che far soffrire l'altra persona sì primo amore ma proprio il primo eh è il primissimo sì proprio anche quelli platonici capito nove anni ti ricordi come si chiamava? no era mio compagno di scuola però ti ricordi che cosa ti aveva colpito di lui? era dolce era carino era molto piccolino cioè più piccolo di te eh? sì era più piccolino di me era molto dolce carino sì e quindi tu insomma sentivi che il mio amore avevo otto anni o nove anni era scuola era scuola i primi amori che proprio non riesci a stare ferma ehm di qualsiasi epico eh? qualsiasi canzone di Raffaella Carra dai in particolare ce n'è una proprio ehm tanti auguri ma non è uno scherzo cioè veramente ma perché ti piace proprio ti piaceva tanto ti piace tanto come come personaggio no io l'ascolto perché sì io a parte che piace a tutti in famiglia però io ho questo rituale con la mia amica andiamo in macchina e ci mettiamo tutte le canzoni di Raffaella Carra ma già da prima di amici cioè tipo già da due anni perché non lo so ci gasa proprio e quindi balliamo in macchina io e questa mia amica come si chiama? Federica l'app che usi di più Spotify ah Spotify? sì ascolto la musica sempre di mattina quando vado al lavoro quando cucino le poche volte che lo faccio quindi adesso hai imparato? eh sto imparando mia nonna mi fa le videochiamate piatto che ti riesce meglio? la pasta al sugo la pasta al sugo non si può sbagliare si incomincia con questo poi piano piano si si arriva la lasagna esatto paura? c'è qualcosa che ti fa paura particolarmente? di materia cioè di fisico magari oggetto niente però una grande paura che ho è quella di non di non sentire niente più emozioni più niente ma perché ti è capitato in passato di vivere questo stato d'animo? eh sì durante il mio infortunio cioè io non sapevo perché cioè non sapevo che senso avesse la mia giornata senza la danza non provavo più neanche piacere ad uscire a parte che non potevo camminare però nulla mi faceva più e non mi emozionavo cioè non ridevo non piangevo ero stavo male e se mi ricordo di quel momento di quel periodo ti dico la cosa più più brutta è non provare emozioni o comunque anche trattenerle vabbè questa è una parentesi hai detto una cosa importante dolce o salato? salato mmm tranne quando sono in fase ormonale che devo mangiare salato preferibilmente cioè se puoi scegliere un piatto cioè se adesso ti potessi mangiare qualcosa che proprio veramente sei golosa cosa vorresti mangiare? allora golosa sul dolce ah no ma io dico golosa anche di salato ah golosa di salato che ne so una pizza una matriciana si pasta pasta si pasta tanta pasta pasta qualsiasi tipo però si pure con le sei in calo di carboidrati ho capito provi troppo quindi hai bisogno di mangiare un po' di più eh eh ultima carta ultima carta il concerto più bello eh il concerto più bello è stato quello di Adele mmm la cantante eh Adele si eh avevo 16 anni che bello l'ho vista a Parigi e poi anche Elisa Elisa sono andata a vederla a Parigi in un locale minuscolo veramente era come vederla lei cantava là e io ero qua eravamo tutti italiani in questo locale a Parigi e lei era all'epoca che aveva fatto uscire l'anima vola l'album bellissima e quindi faceva il tour di quell'album e io ero andata a sentirla insomma quindi ti dico lei e poi Adele insomma i due concerti più importanti sì siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata intanto mi ha fatto veramente tanto tanto piacere conoscierti sì anche a me il locale finalmente poi per qualche lezione di musica quando vuoi quando vuoi ci sono senti chi vorrei essere fra dieci anni io? sì boh nessuno come ti vedi? fra dieci anni io no 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 in prospettiva non ho un modello qualcuno di particolarmente semplicemente vorrei continuare a ballare essere una ballerina essere mamma ah ecco beh questa non è una cosa da poco no io ho sempre cioè vedi comunque di fronte a te un periodo bello in cui ballare però certo di pari passo ti piacerebbe costruire una famiglia assolutamente sì quando avrò trovato l'equilibrio giusto del mio lavoro assolutamente io ho sempre voluto essere mamma e questa è una cosa strana però sin da bambina io spero di poterlo diventare ma perché non dovresti? no ma magari non trovo la persona non lo so maaaa dai io ti auguro veramente di realizzare tutto quello che desideri va bene grazie 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 mille ciao 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 Grazie a tutti.